Mi dispiace Alberto. Non è colpa tua. Sono io. E per via del cappello? Lo sai che ho la lopecia? Ma no. Non si tratta di te. Te l'ho detto. Sono io. Vuoi dire che sono un egoista? È questo? Ti ho detto che non si tratta di te Alberto. Ho capito. Ti interessa un altro? Puoi anche dirmelo chiaro. Non mi interessa nessun altro. La vuoi smettere? Nemmeno il tizio che sta soffocando dentro l'armadio? Oh. Merda. No.